A breve partirà per l'agenzia governativa responsabile del programma spaziale e della ricerca aereo-spaziale degli Stati Uniti d'America. Giuseppe Colavito, il giovane dottorando 25enne originario di Gravina di Puglia, il prossimo 19 agosto partirà per il NASA Goddard Space Flight Center per occuparsi di intelligenza artificiale generativa applicata allo sviluppo del software NASA. Mi occuperò di cercare di velocizzare alcuni processi nello sviluppo del software, almeno questo è quello di cui mi occupo nel mio dottorato in intelligenza artificiale presso l'Università di Bari. Ovviamente su quello che farò nello specifico non posso andare nel dettaglio, però si tratta comunque di applicazioni dell'intelligenza artificiale per velocizzare alcuni processi nello sviluppo software. Tutto nasce da un articolo redatto dal gruppo di ricerca del quale il giovane scienziato gravinese fa parte. Abbiamo iniziato pubblicando un articolo che poi è stato letto, non so in che modo e come è arrivato, ma è stato letto da alcuni ingegneri della NASA che poi ci hanno contattato per avere alcuni dettagli in più su questo articolo. Abbiamo iniziato quindi una collaborazione con alcune chiamate, abbiamo collaborato con alcuni loro interni e adesso si è concretizzata questa possibilità di andare dal vivo a lavorare a questi problemi. Quindi io sarò dal 19 agosto fino a metà novembre, sarò in Maryland al Goddard Space Flight Center a cercare di risolvere alcuni dei problemi che ci sono nello sviluppo del software alla NASA. Una collaborazione che al momento è prevista solo per qualche mese, ma il giovane scienziato si augura che questo possa essere solo un bellissimo preludio.